Ciao amici e benvenuti in questa nuova recensione mi scuso se sentirete dei rumori di fondo ma qui Giudami hanno deciso di urlare in piena notte quindi non ci posso fare niente ok, oggi vi parlo di un film che ho visto esattamente il giorno dopo la sua uscita ma ne parlo solo adesso perché ho avuto una serie di problemi in famiglia eccetera e non ho potuto farlo prima allora, i film in questione è Favolacce ne parlerò senza fare spoiler allora, Favolacce è un film favoloso favoloso è la parola adatta è un film dei fratelli Innocenzo che non mi avevano per nulla convinto nella terra dell'abbastanza il loro esordio alla regia a livello di lungometraggio nonostante non era un film pessimo ma secondo me zoppicava, zoppicava molto, molto ok, prima che mi interrompessero dicevo che appunto è un film favoloso ok, consiglio a tutti, tutti, assolutamente e cos'è? è una fiabba nera essenzialmente dove c'è un ribaltamento sociale tra figli e genitori è una storia essenzialmente di bambini dove i bambini devono crescere tutti prima del tempo dove i bambini essenzialmente sono più maturi dei genitori e niente, è una fiabba, una fiabba nera, una fiabba nerissima i bambini sono i veri protagonisti di questa storia gli attori sono uno più bravo dell'altro abbiamo tra l'altro un Elio Germano magistrale che ormai potrebbe fare qualsiasi cosa mettetelo a fare qualsiasi film lo trovo camaleontico come attore sa fare qualsiasi cosa e qualsiasi cosa la fa benissimo nonostante secondo me il suo ruolo maggiore o almeno il mio preferito è quello di Cotoletta alla milanese nel film storico capolavoro italiano C'hai rotto papà scherzi a parte, in realtà non sto scherzando però vabbè Favolacce è un film bellissimo interessantissimo, interessantissimo abbiamo anche Lino Musella che è Onana di Gomorra che fa una parte piccolina ma perfetta cattivissima, cattivissima nel contesto della storia che dire, è un film che consiglio a tutti mi dispiace tantissimo che non abbia avuto una distribuzione nelle sale ma hanno fatto questa scelta di farlo uscire nelle piattaforme e quindi dobbiamo purtroppo starci ma questa cosa l'avrei voluto vedere tanto, tantissimo al cinema perché la regia è fantastica ci sono dei piani sequenza magistrali la regia è solidissima e soprattutto ci sono tanti guizzi registici che mi sono piaciuti davvero davvero tanto il film cita molto film come gummo ma secondo me lo supera, lo supera di molto, di molto perché la stranezza che c'era in situazioni di vita quotidiana in gummo qui diventa parabola sociale diventa metafora della realtà di una società malata ed è un film corale stanno addirittura sparando i fuochi d'artificio ragazzi aspettiamo un attimo che questi incivili la smettano purtroppo abitando a Napoli sono situazioni che si verificano ogni giorno aspettiamo un attimo che finiscano ok ho perso completamente il filo perché un gruppo di tifosi si è messo a urlare sotto la mia finestra e non ricordo cosa stessi dicendo ma vabbè niente è un film che ripeto l'ho trovato favoloso e l'ho trovato anche molto molto cattivo è un po' paraculo specialmente nell'incipit e nel finale il film mette un po' le mani avanti verso quello che sta per succedere e verso quello che è successo anche rispetto a eventi dove i bambini sono coinvolti è un po' paraculo nel senso che non vengono mostrate alcune cose ma questo è tipico purtroppo del cinema italiano nei film orientali per esempio non è così vediamo bambini ammazzati squartati e quant'altro ma è paraculo nel senso anche buono perché è molto furbo è molto furbo negli intenti e niente mi è piaciuto essenzialmente molto anche il finale anche il fatto che sia una storia che si chiude nonostante sia una storia corale ecco una cosa che non apprezzo di molti film corali è che non c'è una chiusa una chiusura una chiusa proprio del cerchio invece in questo caso c'è ed è davvero bella bella significativa e niente le favolacce diciamo sono tutte collegate è questa cosa che ho apprezzato molto non vengono lasciate lì al caso e anche quando sembrano messe lì a caso poi capiamo che non lo erano più in fondo mi è piaciuto essenzialmente il fatto che il film sia molto molto italiano cheat Boris nel senso che comunque nella colonna sonora c'è Paolo Meneguzzi i personaggi parlano in dialetto romano eccetera ho avuto difficoltà proprio nella comprensione però rispetto a film come Il Cobra non è un'atrocità che mi è capitata di vedere su Prime Video un'atrocità di quelle indimenticabile non penso dimenticherò mai un film così atroce dove in un film girato in Italia e ambientato in Italia parlavano tutti un italiano corretto da telenovela piemontese questa cosa non l'apprezzo non l'apprezzo per nulla se fai un film italiano girato in Italia devi far percepire secondo me la cosa e quindi i fratelli di Innocenzo ci riescono benissimo attraverso appunto colonna sonora dialetti modi di dire e anche situazioni ripeto ho avuto problemi nella comprensione di questo romanaccio ogni tanto però onestamente tra il non capire qualche parolina e il capire tutto con personaggi che però parlano tipo ehi tu se ti comporti male io ti sparo hai capito preferisco non capire alcune parole ok grazie a tutti per aver visto questo video noi ci vediamo al prossimo alla prossima recensione iscrivetevi attivate la campanella qualora non l'abbiate fatto ciao ciao